Salve a tutti, sono Paolo Picchio, il papà di Carolina. La Fondazione Carolina ha creato una squadra di professionisti a servizio delle scuole, dei ragazzi e delle famiglie. Si chiama Rete, Rescue Team. Sono centinaia i casi gestiti negli ultimi tre anni. Aiutaci a garantire questo servizio considerato da tutti il primo pronto intervento cyber. Sostieni anche tu Fondazione Carolina con il tuo 5x1000, un piccolo gesto che non costa nulla ma che significa molto per la salute delle nuove generazioni.